E' ancora sotto shock la città di Discemi dopo la tragica notizia di ieri sera. Un ragazzino di soli 13 anni si è tolto la vita impiccandosi nel vano scala della sua abitazione. A scoprire il corpo senza vita del fratellino, la sorella di 18 anni. Sul posto si è subito recata la polizia che sta conducendo le indagini su una vicenda per cui familiari e conoscenti non riescono a darsi spiegazioni. Il ragazzo infatti frequentava la terza media con un ottimo rendimento e viene ricordato come allegro e sorridente. Gli inquirenti sono molto cauti ma sembrerebbe che alla base dell'estremo gesto del giovanissimo ci sia la morte della nonna, sopraggiunta qualche giorno fa. Un luto da cui il ragazzo sarebbe rimasto terribilmente turbato perché legatissimo alla donna. La città che ancora sgomenta si stringe attorno alla famiglia e al dolore dei genitori. E sulla bacheca di un noto social network del ragazzo aumentano di ore in ore i messaggi di cordoglio.